Lavoratori stagionali, più ne servono, meno se ne trovano. È caccia aperta ai giovani che vogliono impegnarsi in occupazioni estive, nei settori del turismo, dell'accoglienza, dell'educazione, ma anche in agricoltura. Mancano cuochi, camerieri, baristi, mancano animatori, mancano operai stagionali. Un problema su larga scala in Italia, solo nel settore del turismo, il deficit di lavoratori tra locali e ristoranti è di 194.000 unità rispetto al 2019. Il focus su Cremona rispecchia la medesima contrazione percentuale. La nostra città, sfortunatamente, non offre una formazione specifica per quanto riguarda l'accoglienza. Di conseguenza il nostro settore fa sempre molta fatica a reperire delle risorse. In questo periodo, chiaramente, la difficoltà è ancora maggiore. Le confederazioni si muovono, organizzano nuovi corsi per accelerare i tempi del reclutamento, ma manca la materia prima, i giovani disposti a lavorare, anche in settori che propongono contratti a tempo indeterminato, come quello educativo. Abbiamo fatto una lunga e attenta ricerca per trovare nuove risorse educative da impiegare nei nostri centri estivi. Quest'anno è stato fortemente complicato, fortunatamente il nostro ufficio risorse umane ha trovato oggi uno staff adeguato, capace, pronto per lavorare nei nostri centri estivi.